Shock la top model finisce in ospedale con il viso sfigurato. Visita il sito gns247.net per seguire le ultime notizie. Momenti di grande paura per Fernanda Lessa, la celebre top model ed ex concorrente di Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. L'icona della TV ha allarmato i suoi fan condividendo sui social delle immagini sconvolgenti del suo volto, segnato da profonde ferite e con la testa fasciata. La sua guancia sinistra e la zona sopra l'occhio mostrano chiaramente i segni di una rovinosa caduta, un incidente che ha suscitato immediata solidarietà da parte dei suoi numerosi sostenitori. Fernanda ha raccontato che quello che doveva essere un semplice momento di relax con i suoi due cani al parco si è trasformato in una giornata sfortunata. Mentre scendeva delle scale, è inciampata e caduta rovinosamente, sbattendo violentemente la faccia a terra. L'incidente ha richiesto cure immediate e, come lei stessa ha spiegato su Instagram, la guarigione non è stata semplice. Con un video pubblicato sui suoi social, Fernanda ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute dopo l'incidente. Doveva essere solo una passeggiata tranquilla al parco, ma sono caduta rovinosamente dal sesto gradino, finendo con la faccia per terra. Sono grata al cielo per non essermi rotta gli zigomi, il naso, i denti, o per non aver subito danni seri alla testa, ha detto, visibilmente provata ma sollevata per com'è andata. La caduta le ha procurato diverse contusioni e quattro punti di sutura al sopracciglio. Non sono ancora al 100%, ma sto migliorando, ha raccontato Fernanda, mostrando ai suoi follower le foto del percorso di guarigione durato circa due settimane. Nonostante l'infortunio, Fernanda ha dimostrato una grande forza d'animo e, grazie alle cure ricevute, il suo volto è quasi completamente tornato alla normalità. Le ultime immagini pubblicate nelle sue storie Instagram mostrano un miglioramento significativo, con i segni dell'incidente che si stanno progressivamente attenuando. Fernanda è finalmente tornata a splendere e i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo vedendola di nuovo serena e sorridente.